Cari ragazzi, la mia è una bella razza, portiamo tutti una bella mazza. Se qualche donna poi la vuol vedere, noi gentilmente gliela farei intoccare. Io tengo un bastone conservato, ricordo del mio nonno trapassato. E' bello dritto, è duro e ben formato, e solo nel guardarlo fa incantare. Io faccio amore con la ragazza mia, chi esce pazza per la mazza mia. La piglia, la rigira e non s'ammoscia, e dopo se la mette in mezza e coscia. L'altro giorno l'ho data una signora, per fargli fare una bella pulitura. Se l'è tenuta circa una mezz'ora, col rischio poi di farla riscaldare. Il giorno dopo andai dal dottore, perché la mazza volevo visitare. Mi disse qui c'è una cosa da fare, in punta in punta si deve tagliare. Dottore, cosa dite? Siete pazzo? Se la tagliate o resto senza mazza. Caro dottore, io vi saluto e sono il padrone della mazza e del bastone. Caro dottore, io vi saluto e sono il padrone della mazza e del bastone.